E' calato il sipario sul Magna Grecia Running Week, kermesse sportiva protagonista del fine settimana. Ad aprire la settima edizione della Due Giorni, organizzata dall'ASD Team Pianeta Sport Massafra, con il patrocinio del Comune di Massafra e dell'Unione dei Comuni Terra delle Gravine, il convegno sul tema Anima Sana in Corpo Resano. A fare gli onori di casa la presidente dell'ASD Team Pianeta Sport Massafra, Marianna Fiorillo, che ha introdotto gli illustri relatori, il marciatore olimpionico fondatore della scuola Fit Walking, Giorgio Damilano, il maratoneta olimpico e fiduciario tecnico Fidal Puglia, Ottaviano Andriani, la dottoressa Maria Rosaria Nardelli, cardiologa e consigliere comunale, il dottor Gianfranco Crocicchio, specialista in ortopedia, tromautologia e posturologia clinica, ed ancora Maddalena Carrino, atleta e scrittrice. A portare il saluto dell'amministrazione comunale, l'assessore allo sport e alle politiche giovanili, Rosa Termite. Giorgio Damilano, ideatore del Fit Walking. Fit Walking, una disciplina sportiva, ormai codifica il gesto del camminare in maniera sportiva. Può essere una strategia per avvicinare allo sport e quindi al benessere. Assolutamente sì, è uno sport, è un'attività sportiva che è alla portata di tutti e questo è una cosa molto importante e fa diventare sportivi anche quelle persone che sono meno pronte a essere degli sportivi veri e che invece saranno motivati facilmente ad entrare nel mondo dello sport. Mens sana in corpore sano, oggi diventa anima sana in corpore sano. Come si fa? Ma è l'essenza anche dello sport, quella dell'anima sana in corpore sano, perché c'è un collegamento diretto tra quello che è l'anima, che poi è anche nell'accezione filosofica orientale la stessa cosa della mente, tra praticare sport ed avere una mente aperta, una mente lucida e tant'è vero che alcuni anni fa proprio in un convegno in America degli specialisti della mente e quindi delle malattie legate alla depressione avevano questo claim e serve più mezz'ora di cammino che una pastiglia di ansiolitico, questo dice tutto. Ottavio Andriani, appese le scarpe al chiodo si continua a essere sportivi, questo è il messaggio emerso dal suo intervento, ha portato lo sport nel suo posto di lavoro? Sì, ma intanto ex forse non lo si è mai e per questo infatti era giusto in qualche maniera anche ridare qualcosa indietro, visto che a me l'atletica ha dato tanto. Il contributo che si è voluto in qualche maniera anche offrire ai colleghi tutti è stato quello di approcciarsi alla vita in una maniera un po' diversa, cioè cambiare forse la prospettiva attraverso cui si vedono alcune cose. In questo devo dire che sono stato fortunato perché ho trovato comunque di fronte colleghi che avevano già voglia e il seme quindi era già dentro di loro, bisognava soltanto fare in modo appunto che quel geme potesse in qualche maniera germinare e quindi venire fuori. Dottoressa Maria Rosaria Nardelli, due i messaggi importantissimi emersi dal suo intervento. Il primo, benessere non significa solo assenza di malattia e poi il benessere aumenta quando condiviso. Sì, il benessere o meglio la definizione data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di Salute non coincide più con la mancanza di malattia ma con uno stato di benessere psicofisico dell'individuo che è imprescindibile da quello dell'ambiente in cui l'individuo si muove, cresce e si realizza. Quindi un benessere a 360 gradi che ha implicito il concetto di interrelazione continua tra il corpo, la mente e anche l'animo. E questo sappiamo già che quando viene condiviso si amplifica. Quindi il benessere della persona diventa benessere della comunità e di ritorno dalla comunità alla persona. E credo che in uno stato soprattutto di disagio, quale può essere quello della malattia, il fatto di sapere di avere accanto qualcuno che ti dia a una mano che patisca anche con te ma che sia pronto a gioire nel momento in cui la malattia viene superata, sia l'arma vincente per guardare con fiducia oltre il problema patologico anche al futuro. Altro messaggio è che lo sport può diventare terapia. Lo sport è terapia, lo sport aiuta non solo il corpo, quindi il movimento dei muscoli, delle articolazioni, ma tempra anche l'animo. Lo sport è socializzazione e inclusione e lo sport diventa fondamentale anche nei percorsi di prevenzione e cioè fare di tutto perché una patologia non si manifesti e anche nel momento in cui la patologia si è già manifestata fare di tutto perché passi e perché non si ripresenti, perché non vada incontro a delle cronicizzazioni. Il messaggio bello da portare a casa è quello che si ha sempre tempo per cominciare a fare sport e non è detto che si debba diventare degli atleti, anche non usare la macchina piuttosto andare a piedi, anche non chiamare l'ascensore piuttosto salire le scale e correre dietro al proprio cane. Insomma, sono opportunità di movimento, di attività fisica, di benessere che molte volte, grazie anche alla stimolazione della produzione delle neuroendorfine, gli ormoni della felicità e della serenità, fanno venire voglia di fare anche dei passi in più, quindi di passare da un livello di movimento di base ad uno sport e ad una disciplina vera e propria che, ripeto, temprano il corpo ma soprattutto anche lo spirito. Dottor Gianfranco Crocicchio, lei questa sera ci ha fatto scoprire l'importanza di un muscolo Psoas, che cos'è e perché è importante? Ma da un punto di vista posturale è un muscolo che unisce la parte superiore del corpo con gli arti inferiori, ma a parte questo che è un aspetto meccanico è un muscolo interessante perché racchiude anche tanti aspetti di natura somatica, psichica, che vengono molte volte raccolti a livello anche muscolare e viscerale. Quindi siccome l'argomento di stasera era anima sana e un corpo sano, essendo io che mi occupo di queste patologie ho pensato di che parlerò dell'Opsoas, un muscolo che ora si sta cominciando a conoscere un po' di più ma che in realtà è fondamentale nella salute di ognuno di noi. Maddalena Carrino ci ha parlato di sport, storie di sport e ci ha stimolato a crearci degli obiettivi. Perché è importante crearsi degli obiettivi? È importante perché penso che per il periodo storico che noi viviamo, in cui l'ansia è diventata fada padrone ormai nella vita di tutti, credo che avere delle valvole di sfogo sia importantissime. Infatti da tanti studi scientifici risulta che il non utilizzare il nostro cervello in maniera adeguata addirittura fa ridurre delle aree molto importanti, come ad esempio l'amigdala. L'amigdala è un organo che è una sorta di mandorla, una mandorla vera e propria, che praticamente i nostri antenati utilizzavano, era quello che l'attacco e fuga, cioè serviva proprio per poter dare l'input ai nostri, quelli che cacciavano insomma, ai cacciatori, per fuggire nel momento della preda attaccava oppure per poter attaccare nel momento in cui vedevano che effettivamente c'era cibo per poter mangiare. Questo organo che è molto importante, nel momento in cui non funziona come dovrebbe, perché la nostra vita noi il cibo ce lo procacciamo ogni momento in cui possiamo aprire il frigorifero, quando non funziona questo si scatena una situazione di stress a catena, cioè è come se in qualche maniera la nostra energia deve comunque sfiatare da qualche parte e quando questo non accade e noi non riusciamo a trasformare la nostra energia fisica, ma anche quella mentale in qualche maniera nascono sempre delle cose strane, io non le chiamo patologie, però la noia, la tristezza, sono tutte quante situazioni secondo me che sono determinate dalla mancanza di obiettivi, cioè dal non avere dei traguardi anche a breve termine che possono in qualche maniera motivare le persone a muoversi, perché noi siamo movimento, noi nasciamo come persone che devono muoversi, non è possibile, tant'è che le persone ammalate, quelle che sono costrette a stare allettate, proprio per questa ragione hanno le piaghe di decupito, perché i nostri muscoli non nascono per poter stare a riposo, dobbiamo muoverci e questa è una cosa fondamentale perché si abbassa la pressione sanguigna, si abbassano i trigliceridi, tutto funziona come deve funzionare, se facciamo le analisi del sangue ad una persona sedentaria, le facciamo una persona che si muove, i valori di riferimento sono completamente diversi e questa prova non è che quella persona è un atleta, dell'elite, non bisogna pensare che muoversi significa andare a fare la maratona, non è che bisogna avere per forza degli obiettivi elitari, bisogna avere degli obiettivi minimi, cioè incomincio a muovermi, perché quando ci si comincia a muovere si entra in un circuito positivo, virtuoso, come diceva la dottoressa poco fa, praticamente si entra in un circuito anche di forza, cioè mi sento più forte, mi sento bene, lo voglio rifare e anche domani farò la stessa cosa e poi ancora di più, in maniera tale da costruire una struttura, cioè costruire una struttura mentale che è positiva, le persone che si muovono difficilmente si ammalano o comunque quando si ammalano hanno voglia comunque di ritornare subito al lavoro perché hanno bisogno di muoversi, hanno bisogno di quell'energia, perché ti ridà, tu dai sicuramente però te la ridà anche. Anima sana e incorpore sano è il tema di questa sera, perché questa scelta e abbiamo visto questo tema sviscerato davvero in tantissime forme e in tantissimi tagli. Sì, il convegno di apertura del nostro contenitore di eventi sportivi e voleva appunto essere declinato sia dal punto di vista tecnico sportivo ma anche medico scientifico ed infine diciamo sociale e psicologico. Anche la scelta dei relatori è stata dettata da questa volontà di illustrare e promuovere la pratica sportiva come un momento di benessere a tutto tondo, quindi partendo proprio dalla tecnica atletica alla biomeccanica, passando attraverso lo sport come veicolo di salute, di prevenzione e salute vista non soltanto dal punto di vista appunto fisico ma anche una salute dell'anima data appunto da una qualità di vita su cui lavorare nell'attivarci nel quotidiano in sane abitudini che rendano appunto la nostra anima anch'essa più sana e più bella. Quindi bellezza coniugata comunque con lo sport e questa bellezza anche interiore che poi si trasmette dal punto di vista fisico nella prestazione. Dunque Magna Grecia Running Week non è solo agonismo ma anche avvicinamento allo sport.